Può capitare di dover mandare una mail dal contenuto riservato oppure un allegato con dei dati sensibili capita magari in questa parte dell'anno più frequentemente in vista dei giudizi, delle valutazioni eccetera e non vogliamo che questo materiale possa essere utilizzato da estranei anche per sbaglio, inviato a qualcuno che non lo deve leggere Per proteggere i contenuti particolarmente delicati ci sono due modi, uno è questo Però mi sembra francamente poco pratico Oppure si può utilizzare molto più semplicemente una funzione della posta Questa funzione si può utilizzare non solo con la posta di istituto ma anche con una posta personale L'importante è che sia un account gmail Vediamo cosa succede quando mando una mail a qualcuno Allora immaginiamo di dover scrivere ad un nostro collega Allora immaginiamo di dover mandare qualcosa di importante Ecco fatto Allego il documento E invio la mail Vediamo cosa succede al destinatario della nostra mail Ecco qua È arrivata la mail Che ha per oggetto materiale riservato La prima riga della mia mail E l'allegato Bene, apriamo la mail C'è il messaggio C'è il materiale Io posso fare un sacco di cose con questa mail Posso rispondere Posso inoltrarla a qualcun altro Se poi vado qui sul menu in alto a destra Posso anche stamparla Posso scaricare il messaggio Insomma posso veramente fare qualsiasi cosa Se però io non voglio che questo accada Posso utilizzare un altro sistema Allora diciamo Come prima Che io devo mandare del materiale riservato al mio collega A questo punto Prima di inviare la mail Io semplicemente Clicco questa iconcina In basso Dove c'è il lucchetto con l'orologino Attiva Disattiva La modalità riservata Cliccando questa icona Mi viene detto Che il destinatario Di questa mail Praticamente non potrà far nulla Con questa mail Se non leggerla In pratica Non potrà inoltrarla ad altri Non potrà copiarla Non potrà stamparla Non potrà scaricarla Io posso impostare Quanto tempo Do a questo collega Per poter leggere la mail Un giorno Una settimana Un mese Tre mesi Cinque anni Diciamo che Mi va bene Scadenza Un giorno Passcode Non è necessario Quindi Lasciamo pure stare Perché poi diventa una procedura molto complessa Salvo Se a questo punto Mi accorgessi Di aver commesso qualche errore Di voler cambiare delle cose Nessun problema Se non l'ho ancora spedita Basta che io clicco qui Sul tasto modifica E tranquillamente Posso ritornare indietro Invece diciamo che mi va bene così E quindi Invio la mia mail Adesso andiamo a vedere Che cosa succede Al collega Che ha ricevuto Questa mail Questa era la mail di prima Questa è la mail che arriva adesso Intanto Potete notare una differenza In una mail normale Prima di aprirla Io oltre all'oggetto Vedo Le prime righe Di quello che ho scritto E il materiale Che è stato allegato Se io attivo La modalità riservata Prima di aprire la mail Io praticamente Vedo solo l'oggetto Ma non vedo niente Non vedo nient'altro Apro la mail Questo è il mio messaggio Caro collega Ti mando questo documento Qui c'è il mio materiale riservato Ma Se io ci passo sopra col mouse Non si vede nulla Non c'è un'anteprima Mentre prima si vedeva Poi c'è questa scritta Che avvisa il mio collega Gli sta dicendo Guarda Che tu hai a disposizione La lettura di questo documento Fino a domani Può rispondermi? Certo Se clicca Rispondi Mi può rispondere Ma come notate Non viene copiato nulla Quando noi rispondiamo Direttamente a una mail Qui sotto Viene copiato automaticamente Il testo della mail precedente Qui no Qui non si vede nulla Ha mandato a me la mail Questo è il testo Punto e stop Allora Io non solo Posso rispondere solo Al mittente Se io vado Se io vado nel menu Che abbiamo visto prima È sparito inoltre È sparito scarica È sparito stampa Io non posso far nulla Con questa mail Posso solo rispondere E basta Posso aprire il documento A questo punto Io vedrò Il documento Che mi è stato Mandato Allo scadere del giorno Però Quando arriva la data Che io ho stabilito Vedete Questa è la risposta Apriamo E c'è soltanto Grazie Non c'è copiato nulla Trascorso le 24 ore Che io ho stabilito Perché il collega Legga il materiale La mail Del mio collega Sparirà Lui non ce l'avrà più Quindi Avrà letto Quello che io Ho bisogno di dirgli Dopodiché Il messaggio sparisce E noi siamo sicuri Che nessun altro Leggerà O comunque Potrà avere a disposizione Per errore Il nostro materiale Buon lavoro